No, ci siamo stufati, ci siamo stufati, basta, basta, perché ma no solamente oggi, ok? Sono parecchie partite che ci sono questi episodi sempre a sfavore dell'Arezzo. Abbiamo sbagliato, ho sbagliato prima a prendere il direttore, a prendere tutto quello che... Però oggi è veramente vergognoso, vergognoso! Oggi noi che abbiamo perso sul campo, abbiamo perso per colpa dell'arbitro. La rabbia e l'amarezza per le decisioni arbitrali non sono andate via. Queste erano state infatti le parole del direttore dell'area tecnica a fine match ed adesso la società sta preparando un dossier ad hoc contenente gli episodi segnati da decisioni arbitrali discutibili. Dico, ok, al presidente dell'arbitro di andare a analizzare questa partita, ma non solamente questa. Contro il Vispesaro, andate a analizzare questa partita, perché ci sono degli episodi veramente contro di noi, sempre! Il dossier sarà inviato a breve agli organi competenti. Gli errori e danni dell'Arezzo, come segnalato dal direttore Muzzi a fine partita, riguarderebbero infatti anche altre partite, sempre secondo il club Amarando. Se loro vogliono che l'Arezzo manziare di... è importante dirlo, ok? Che noi stiamo qui, abbiamo questi soldi, stiamo mettendo tutto quello che possiamo mettere, ma così non mi piace perdere, ok? Non ci piace perdere. Chiaro, io siamo stati sempre zitti, sempre tranquilli, abbiamo perso sul campo, siamo stati zitti. Ok? Ma oggi è stato vergognoso, vergognoso, oggi ho perso contro l'arbitro. Chiaro? Questo qua è un segnale per tutti. Se loro vogliono mandare l'Arezzo in Serie D, è importante dirlo. Ok? Noi ci rassegniamo, andiamo per la nostra strada, ma così ci ruote proprio. Ok? Ma non solamente oggi, perché l'arbitro può pure sbagliare, ma gli episodi che sono stati veramente sfavorevoli verso di noi. Ok? Veramente sfavorevoli. Grazie.